Buongiorno ai lettori della provincia di Varese, oggi abbiamo qui in redazione un ospite speciale, qui con noi Luca Chirico, corridore professionista della Bardiani CSF, che è qui per voi e vi saluta. Buongiorno a tutti, buongiorno ai lettori, è un gran piacere essere qua e noi invece ci vediamo domani in edicola.